Prima il covid, poi la siccità e ora l'aumento vertiginoso dei prezzi. Sono in difficoltà le tante aziende agricole del nostro territorio dopo la notizia sul rincaro di carburante, energia, fertilizzanti e mangimi per animali. La situazione al momento, dopo un anno che c'è stato praticamente problema siccità, soprattutto sulle semine primarili, un grosso calo delle produzioni. Però nonostante questo siamo stati sollevati dal fatto che con delle spese, diciamo costi di gestione dell'anno scorso abbastanza modesti, abbiamo avuto un prezzo del grano molto alto e questo è riuscito a tamponare le perdite di produzione. Tutto sommato non è stata una stagione negativa ma ci siamo salvati diciamo i corner. I corner insieme all'ozio portano avanti l'azienda e gestiscono ben dieci mezzi più le attrezzature. Un grande costo se sommiamo poi la manutenzione e il pieno di carburante per ogni trattore. È molto relativo diciamo passi dai consumi più estivi che sono molto alti, 300, 400, 500 litri al giorno. Magari in inverno i consumi sono molto inferiori perché i macchinari sono molto più leggeri e quindi i consumi sono minori. Però in estate il costo del gasolio più o meno partiamo su un consumo sui 20.000 litri all'anno e quindi quest'anno ci darà tantissimo. Abbiamo visto che il costo del gasolio è raddoppiato e se i prezzi saranno questi quest'estate sarà un problema perché parliamo di decine di migliaia di mila euro di costi di gasolio. Una situazione drammatica se non si troverà una soluzione in poco tempo, ha aggiunto poi Tonelli. Infatti sono tanti gli agricoltori che guardano con fare preoccupato anche alla prossima stagione della trebbiatura. Preoccupati soprattutto se le produzioni saranno scarse, visto questo aumento del gasolio di tutti i costi di produzione, se le trebbiature saranno scarse con un basso raccolto può essere un grosso problema. Se i prezzi bene o male rimangono questi e c'è una buona produzione, tutto sommato può essere anche una situazione normale. Un grido d'allarme arriva anche dagli allevatori in seria difficoltà per i costi quasi raddoppiati dei mangimi per il bestiame. I nostri colleghi, soprattutto gli allevatori, sono preoccupati perché visto che chi ha già dei contratti in essere con già un prezzo stabilito del prodotto, vive in una condizione che gli aumenti dei costi di produzione sono altissimi e praticamente vende il prodotto poco più dell'anno scorso, quindi si trova in grossa difficoltà. Stessa cosa vale per noi se ci troviamo in questa situazione e speriamo che il prodotto finale almeno sia ben retribuito. Ma c'è anche da dire che questo momento ha messo gli agricoltori della nostra provincia nella situazione di risparmiare in alcuni lavori abituali per cercare di contenere i costi come la riduzione della concimazione nei campi risparmiando sia il concime che il gasolio utile per altre lavorazioni. Le istituzioni in questo momento che non mettono in difficoltà magari con opere sanzionatorie o magari voglio dire di avere un occhio di riguardo a questa situazione, visto che c'è questa grande certezza di avere tutti un po' più di parsimonia.